Vertice oggi a Palazzo Chigi per aiutare il Veneto colpito dall'alluvione. Il governo, dopo la visita condotta ieri dal Premier, accompagnato dal governatore Luca Zaia e dal ministro delle riforme Umberto Bossi, stanzierà subito 300 milioni di euro. Il finanziamento sarà, con ogni probabilità, inserito nel disegno di legge sulla stabilità, salvo l'esecutivo non decida di proporre un provvedimento ad hoc. Questi primi 300 milioni, ha dichiarato il governatore Zaia, sono l'infa vitale per la nostra comunità, servono per ripartire. Ringrazio il Premier e i ministri presenti, abbiamo dimostrazione di cosa sia l'efficienza e la celerità. Il capogruppo in Commissione Bilancio della Camera, Massimo Bitonci, della Lega Nord, ha anche chiesto che siano sospesi gli studi di settore e il versamento degli acconti di imposta a novembre, sgravi fiscali e la deroga al patto di stabilità. Il governatore Zaia, riferendosi poi alle contestazioni subite dal Presidente del Consiglio a Padova, ha aggiunto di scusarsi come padrone di casa, ribadendo tuttavia che i veneti sono con il governo e con la Lega Nord. E' proprio la Lega Nord, che ha immediatamente preso a cuore la situazione delle famiglie e delle imprese venete, colpite a migliaia, invita tutti a sostenere l'iniziativa di raccolta fondi per i danni provocati dall'alluvione tramite il conto corrente attivato dalla Regione Veneto presso Unicredit, il cui IBAN è IT-62D-02-008-02-017-000-10-111-6078 oppure tramite il conto corrente il cui IBAN è IT-13-076-01-01-600-0004-1839-200 oppure attraverso il conto corrente postale 4183-9200 intestato ad Associazione Giovani Padani via Colombi 18-20-161 Milano con causale alluvione Veneto oppure a versare un contributo di 2 euro all'SMS 45501.